I Metallica sono umani anche loro. Raga, per una volta oggi recuperiamo un po' di autostima vedendo dei mostri sacri fallire. Un pochino. Che sia chiaro, non faccio questo video per mancare di rispetto a nessuno, il motivo per cui faccio questo video è che spesso noi musicisti vediamo questi mostri sacri praticamente perfetti e poi sentiamo quanto possiamo fare schifo noi che siamo il Luca giurato della chitarra. Ecco, vedere gli artisti intoccabili che anche loro sbagliano rende loro un po' più umani e noi un pochino meno stronzi. Cominciamo. Gli Epic Fail più assurdi degli artisti famosi. Oh, Idina, la doppiatrice di Frozen. Oh, abbassa quella voce da gallina. Cazzo, è bravissima, ma qui si è trasformata in Domenico Bini. Andiamo avanti con Sia. Ok, si è un po' fuori. Capitano tutte le giornate in cui sei un pochino senza voce, eppure anche quando scazza Sia non mi risulta fastidiosa. Quasi come Madonna. E che cazzo è Vanna Marchi durante una colonoscopia? Perché? Pensavo che il ballerino stesse arrivando per tirarle un calcio in faccia e farla smettere di starnazzare. Oh, Justin Bieber. Pippo che cade dal burrone. Torniamo ai Metallica. Oh, Fade to Black, ballad epica. Non sanno cosa fare. E nel dubbio Lars suona Cazzo di Cane. Lars smettila! Non suonare mentre parlo! Minchia grande Oli, cantante della Madonna. Deve aver sbagliato il registro vocale, doveva andare in... ed è andato in... Andiamo avanti, Guns N' Roses slash. Gli altri lo guardano confusi e lui si stupisce che non iniziano. Se la ride, fuma la sigaretta e fotte sega. Yeah! Non è l'errore che conta, è come ti poni nei confronti dell'errore. Fingi di non avere mai sbagliato, che è lo stesso approccio che ha approcciato il coglione che vedremo nel prossimo video. TEDx di Genova. Marca puttana! Ti chiamano per fare un TEDx e scrivere una canzone in diretta e tu vai pesantemente fuori tempo. Ci sono stati un sacco di problemi tecnici dall'inizio dell'esibizione che mi sconcentravano e mi portavano fuori. Finchè non arriva il momento in cui devo creare una canzone completamente improvvisata lì sul momento. Ma stava scadendo il tempo perché c'è tipo il limite di 16 minuti e io ero già a 14. Quindi ero lì che pensavo, cazzo non posso sbagliare, cazzo ho sbagliato, cazzo non ho tempo di ricostruire la traccia. Vado avanti lo stesso. Avevo fatto 170 prove dove era andato tutto ok, ma ovviamente non appena si schiaccia il tasto REC e fai un video che deve andare in un canale da 38 milioni di iscritti è big fail totale. Bravo, bravo, bravo. Andiamo avanti. I tool. C'è chi la prende con ancora meno sportività e spacca il microfono. Abbiamo qualcosa in comune. Cazzo! Gli stronzi mi ridono. Ma la voce è andata avanti anche quando lui è andato giù. A proposito, c'è una demonizzazione del playback a prescindere sempre e comunque. Guardate il prossimo. Ma veramente? Non sembra neanche la sua voce e c'è un motivo più che valido. Lui cantava molto spesso con le voci originali sulla base perché nei suoi show si dava priorità all'esibizione a 360 gradi e non solo alla performance canora. Inoltre, come in questo caso, lui non sentiva sempre la voce nei live. Sostanzialmente funzionava così. Gli aprivano il microfono solo quando doveva coinvolgere il pubblico e parlargli direttamente e urlargli sulle mani figli di puttana e il resto del tempo glielo spegnevano. Tuttavia, la traccia vocale veniva registrata dall'inizio alla fine. E questa che avete appena sentito era una traccia che non avreste dovuto sentire mai. Quindi non possiamo considerarlo un epic fail. Ok, il prossimo è... Freddie Mercury! Ma... F... Freddie Mercury? Non... Non... Cazzo! E anche quando si accorge di non avere più voce, riadatta la melodia di modo da poterla portare a casa in qualche modo visto a questo serviva questo video per capire che anche un mostro di questa proporzione poteva avere una serata no e terminiamo con il video più incredibile di tutti con l'esibizione no per eccellenza ma prima iscriviti a questo canale se vuoi ancora una botta di autostima e vedere gli altri grandi fallire un pochino signori Bobby Kimball il cantante dei Toto oh cazzo ma eri una delle voci più potenti e spettacolari che avessi mai sentito mi che tracollo brutto che ho avuto non era fuori solo di tonalità era proprio completamente da un'altra parte anche col timing ecco il corista che lo guarda tutto bene? benissimo il bassista che se la ride pesantemente ok che cazzo è? ok ok let's go quando ero un bambino ho sempre voluto cantare come Bobby Kimball ora ci riesco oh cristo ma l'Africa non ha sofferto abbastanza che pezzi di merda come ho già detto prima questi video non tolgono nulla agli artisti sono tutti quanti artisti della madonna ma sono umani e l'errore è dietro l'angolo per tutti infatti guardate questa esibizione di Bobby Kimball quattro anni dopo quella che avete appena visto e questo è tutto per oggi fatemi avere altri video di epic fail di altri e ci vediamo spero la settimana prossima con un nuovo video grande eh ciao 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 ciao